Buongiorno e ben ritrovati alla rassegna stampa del mattino Occhio ai giornali sul canale di 17 di Fano TV, subito le notizie, ne abbiamo tantissime questa mattina, cominciamo dal santo di oggi, il santo che la Chiesa Cattolica ricorda, San Leone Magno, il sole sorge in questo istante, mentre vi stiamo augurando il buongiorno e tramonterà le 16 e 59 minuti, quindi insomma avremo 10 ore di sole, 10 ore di giorno. Andiamo adesso a vedere invece il tempo. Abbiamo un super protagonista in queste settimane che è l'anticiclone, ancora un super anticiclone invadente addirittura in tutta Europa, nebbie anche fitte e soprattutto poche piogge. Il bollettino di oggi, cielo sereno poco nuvoloso, dalla protezione civile delle Marche, così come per domani, mercoledì e giovedì 12, quando non si escludono però deboli piogge interne nel pomeriggio di giovedì. Allora, oggi è un grande giorno per l'umanità, possiamo dire così, perché? Perché è arrivato l'annuncio tanto atteso che un'azienda farmaceutica, sono in tanti a correre per il vaccino anti-Covid, ma ce n'è una, anzi in realtà sono due. L'Aptfizer, che è comunque quella più famosa perché è l'azienda farmaceutica che ha prodotto e che produce il Viagra, la pillolina blu, ha dichiarato ieri di aver pronto un vaccino che addirittura coprirebbe il 90% e dunque con risultati straordinari. E allora? E allora volano le borse e di conseguenza il mondo esulta. Di questo parlano tutti i giornali questa mattina, la gran parte dei giornali questa mattina, poi però, tornando nelle Marche, c'è l'altra notizia invece importantissima che riguarda sempre la sanità, ovvero gli ospedali unici sono stati tutti bloccati e di conseguenza anche quello su cui abbiamo parlato e scritto fiumi d'inchiostro, quello Peserofano, l'ospedale unico Peserofano, al momento, stando così le cose, è congelato, non si farà. E l'altra notizia invece riguarda la morte di un altro importante imprenditore, la morte del figlio di Vittorio Merloni a Milano a soli 53 anni, Andrea Merloni trovato cadavere in casa. Queste sono le tre notizie del giorno, andiamo velocemente però, vi voglio far vedere un po' come, visto che l'annuncio è roboante, un annuncio davvero straordinario che potrebbe far tirare davvero un sospiro di sollievo, anche se poi le dosi saranno per gli italiani 1.600.000 entro la fine di dicembre, entro il mese prossimo, 1.600.000 persone potrebbero già vaccinarsi, però poi nel 2021 le cose cambieranno. Intanto il re del Viagra, titolo del tempo, scopre il vaccino, il colosso farmaceutico americano che brevettò la pillola blu ha trovato come battere il virus. Secondo i test è efficace al 90%, esplodono subito tutte le borse, già pronte 50 milioni di dose. Conte però ha puntato su altri vaccini, ora l'Unione Europea ci mette una pezza e ordina 300.000 fiale. Il vaccino è vicino, titola avvenire, Pfizer annuncia l'efficacia dell'antidoto, settimana prossima la richiesta di messa in commercio. Covid, la cura però c'è già, libero punta invece sugli anticorpi monoclonali che fanno guarire i malati, produciamoli in quantità, l'ex presidente dei virologi europei dunque assicura, mentre la Repubblica, l'Italia 1.700.000 vaccini, le prime dosi a gennaio, incontro del ministro Speranza con la Pfizer che annuncia efficace al 90%. Abemus vaccino, il titolo, la fotonotizia del resto del Carlino, Pfizer il farmaco funziona al 90%, Fauci, efficacia straordinaria, in Italia dovrebbero arrivare 1.600.000 dosi entro dicembre. Per intanto altre 5 regioni finiscono in zona arancione, sono alcune vicino a noi. Il vaccino Pfizer efficace al 90%, entriamo allora nella pagina interna del resto del Carlino. Funziona, il vaccino anticovid dell'americana Pfizer e della tedesca BioNTech funziona garantendo una copertura del 90%, quindi molto alta. Ad annunciarlo scatenando un rally globale sui mercati borsistici è stato Albert Borla, il presidente di Pfizer, che ha parlato di un grande giorno per la scienza e l'umanità. Il nostro studio, ha detto, indica un tasso di efficacia del vaccino superiore al 90%, 7 giorni dopo la seconda dose. Sì, perché sono due le dosi. Ciò significa che la protezione viene raggiunta 28 giorni dopo l'inizio della vaccinazione. Servono due mesi però per avere tutti i dati sulla sicurezza dall'ultima inoculazione del vaccino per poter ottenere l'autorizzazione della FDA. Per questo pensiamo che il vaccino sarà disponibile e approvato entro la terza settimana di novembre. Pfizer e poi c'è anche l'altra azienda tedesca, la BioNTech, stanno lavorando 24 ore al giorno per aumentare la produzione con l'ambizioso obiettivo di avere 50 milioni di dosi sufficienti per 25 milioni di persone, visto che la somministrazione prevede due dosi entro la fine dell'anno, e 1 miliardo e 300 milioni di dosi nel 2021. Il potenziale vaccino deve però essere conservato a meno 75 gradi e somministrato in due dosi separati. Ora, qui il problema qual è? Che conservare a meno 75 gradi un vaccino per i paesi cosiddetti ricchi potrebbe non essere un problema. Ci sono gli ospedali, ci sono situazioni che si possono benissimo ricavare, costruire ex novo. Per i paesi poveri invece la questione si complica notevolmente. All'Italia, dicevamo, finirebbero 1 milione e 600 mila dosi entro la fine di dicembre. E questa è la notizia che troverete sui giornali di questa mattina. Intanto il Carlino fa un breve cenno su un'altra azienda che collabora con la Pfizer, appunto abbiamo sentito la tedesca BioNTech, che è stata fondata in Germania 12 anni fa nel 2008, da due medici, marito e moglie, eccoli qua, e che fattura 800 milioni di euro. Invece le notizie di casa nostra. Nuovo ospedale tutto azzerato, titolo del Corriere Adriatico edizione di Pesaro, il Consiglio regionale vota la sospensione del Project Financing, convergenza tra centrodestra e Movimento 5 Stelle. Saltamartini chiede di validare i protocolli per idrosiclorichina, ozono e plasma. Ieri ancora 10 morti. Andrea Merloni invece muore in casa, la fotonotizia è il dramma a Milano. Cosa si può fare? E tutti i divieti nelle Marche ancora gialle. Regione che dunque resta, nonostante l'aggravarsi un po' della situazione in giro per l'Italia, anche nelle regioni vicino alle nostre. Abbiamo visto l'Umbria, l'Abruzzo diventano arancioni, ancora gialla invece l'Emilia-Romagna. Mentre i medici di base dicono out la connessione con il portale dell'Asur, quindi internet, arrestati due ventenni, hanno picchiato e rapinato un anziano a Pesaro e poi a Fano la Giunta distribuisce contributi anti-Covid per le manifestazioni. Mentre a centropagina il Carlino di Pesaro punta sull'annuncio di Filippo Magnini, Filo, che dice sono pronto alla prossima Olimpiade, dunque torna in vasca Magnini e non molla. Ma la Regione affonda l'ospedale unico, il titolo d'apertura Pietra tombale del Consiglio, Alvia, nuovo piano sanitario, rabbia del PD, vendetta contro la salute della gente. Andrea Merloni trovato morto nella sua casa a Milano e poi le altre notizie in breve. Pronto percorso sporco e pulito, a Rubino il pronto soccorso si sdoppia. Andiamo sulle pagine interne. Nacquaroli, no all'ospedale unico. Il project financing è già sospeso. Il centrodestra in Regione approva un documento contro tutti i provvedimenti in corso per le nuove strutture. Il Movimento 5 Stelle presenta una risoluzione per la revoca degli atti dell'ex Giunta e poi la ritira. La Lega dice invece, la voteremo. Mentre il servizio edilizia sanitaria dell'assessorato di Baldelli ha stoppato l'accordo di programma con il Ministro. La definizione di un atto condiviso rinviata alla riunione di domani della Quarta Commissione, la maggioranza ha il sì dei 5 Stelle. Colpo di spugna affossato all'ospedale unico, titolo del Carlino, voto unanime in Consiglio regionale. Intanto resi noti i dati sulla strage. Nelle case di riposo 300 contagiati, 285 decessi da maggio. Braccio di ferro tra assessori sull'ospedale unico di Pesero. Acquaroli glaciale non si fa, dice Salta Martini. Della Lega si fa sfuggire il sì alla struttura. Baldelli, fratelli d'Italia, va in fibrillazione. Andrea Merloni, shock, trovato cadavere in casa. Era morto da un giorno alla tragedia a Milano. Il figlio di Vittorio stroncato da un malore a 53 anni. Questo è il Corriere. Mentre il Carlino Merloni, l'uomo che tentò di rilanciare la Benelli, arresto cardiaco improvviso, aveva a 53 anni il corpo scoperto dalla domestica. Molto conosciuto anche a Pesero, fu alla guida del Leoncino dal 1995 al 2004. Era entrato, e questi sono i legami con la città di Pesero, a far parte del Rotary Rossini. Partecipò a tante feste in villa. E ieri a Iesi c'è stato l'addio ad un altro imprenditore conosciuto in tutto il mondo. Piero Alisi, addio al più grande. Amava Iesi, nella cattedrale riecheggiano le parole del Vescovo. Ha dato tanto ad omaggiarlo politici e operai a cui aveva dedicato la sua vita. Sembrava burbero, ma poi non potevi non apprezzare la sua grande sensibilità. Questa è la pagina invece di Iesi, del Corriere, imprenditori, operai e il volley. Per l'ultimo saluto all'ingegnere, il Vescovo Rocconi dice che Piero Alisi aveva tanti doni e li ha vissuti intensamente, con la capacità di essere generoso. Trump ispira Salta Martini, tre mosse contro il virus. L'assessore punta le cure con ozono, plasma e idrossiclorichina, la terapia usata per l'ex presidente americano Donald Trump. Riattivato il numero verde per l'emergenza, potenziate usca e terapia domiciliare, integrati i medici di base. E poi c'è la questione dei bambini a scuola con la mascherina. Ne parla il Corriere di questa mattina. Bambini a scuola con la mascherina, il decreto è stato mal interpretato. Un gruppo di circa 300 genitori si appella alle istituzioni e chiede di trovare una soluzione, che non sia la didattica a distanza. Il protocollo e le linee guida per l'istruzione rimangono invariati. Nell'ultimo DPCM scrivono la politica. Il governo ci debbono dare risposte chiare, esastive ed equilibrate. I finti centri commerciali, Carloni si attiva, Vitri, Micaela Viti del PD devono poter aprire nei fine settimana. Il caso è quello di Vallefoglia, che sembra un centro commerciale, una galleria come quella, per esempio, che abbiamo noi qua a Fano, Fano Center, ma in realtà è un finto centro commerciale. Sono tanti negozi che però sono stati fatti chiudere per il DPCM. L'assessore però ha inviato un quesito urgente alla Conferenza delle Regioni e alle province autonome. Poi c'è un dramma che racconta il Corriere questa mattina, un settantenne che è stato trovato morto in casa, ieri pomeriggio, in un'abitazione lungo la provinciale, poco lontano da Trasanni, frazione di Urbino. All'interno del domicilio è stato rinvenuto cadavere un anziano di cittadinanza italiana che viveva da solo. Ospedale arriva sempre da Urbino. Un pronto soccorso bis costerà poco meno di un milione di euro. Sarà una struttura in ferro di 200 metri quadrati che servirà per l'accesso ai malati o appure a quelli che hanno sospetti Covid o infettivi. I tecnici hanno fatto il loro lavoro ma ora si attende la ditta scelta da Roma. L'Asura Revasta 1 è impegnata in questo momento a sistemare 5 ospedali. E la Foschi critica, dice, si è perso tempo, andava fatta a giugno. L'assessore comunale di Urbino alla Sanità annuncia anche l'attivazione del servizio spesa a casa per chi si trova in difficoltà. Sempre dalle pagine di Urbino, il Corriere, salvato dal Covid, muore però per un'altra malattia. La famiglia, dice il medico, ci è stato sempre vicino. Il dottor Rubano, sfidando il contagio, ha aiutato l'anziano con patologie pregresse, a guarire, gli ha allungato praticamente la vita. Turismo, sostegno contro il Covid, la Giunta ora segna contributi distribuiti 25 mila euro, la Giunta è quella di Fano, ha distribuito 25 mila euro a varie manifestazioni che hanno richiamato pubblico. Niente mercatini, a rischio anche i presepi natalizi, sì invece all'albero e alle luci, la Giunta decide il da farsi, carico delle spese di tutti gli addobbi. E sul biodigestore a Talacchio, la CNA, per bocca di Fausto Baldarelli, dice una perdita per Fano, il responsabile sottolinea la perdita dell'indotto economico per la cittadina. Telecamere contro i balordi, non per le multe la richiesta della Lega in Consiglio Comunale a Fano dopo i fatti di Sant'Orso. Intanto la Giunta va a caccia di 300 mila euro per altri 20 occhi elettronici da installare in città. E poi in arrivo, sempre a proposito di salute, lo ricorda il Carlino questa mattina, nuovi servizi alla farmacia di Fano Center, autoanalisi e telemedicina, nuovi servizi nella farmacia comunale gestita da Aset all'interno appunto di Fano Center. A Senigallia invece arriva l'ok, la Caritas riapre il Covid Hotel, intanto l'ospedale regge l'urto con sette posti ancora disponibili. Il sindaco Livetti annuncia la nostra struttura non è in emergenza e dunque ancora sul fronte Covid da Senigallia 15 bambini positivi alle elementari. Il sindaco di Serra dei Conti, Particaroli, dice abbiamo chiuso tutto per evitare che poi si diffondesse anche all'interno delle famiglie. Dalla Val Metauro invece Fossombrone, ex medicina, il reparto di ex medicina da destinare ai reparti Covid dell'area vasta dice no, ora serve però il sopralluogo dell'assessore regionale Saltamartini. Doccia fredda di Magnoni, ma la scelta caldeggiata dal consigliere Rossi spetterà all'assessore regionale. Il direttore dice i posti ora sono occupati da ambulatori senza due vidi di accesso, non c'è dunque sicurezza. Il sindaco intanto sembra da Fossombrone sull'ospis ha dimenticato qualcosa, dice il consigliere Michele Chiarabilli, Unione per Fossombrone, c'è stato il rifiuto sull'ordine del giorno. Terza classe in isolamento invece a Mondolfo, tra le primarie Fantini e Campus, contagi in lieve aumento a Mondolfo, salgono a 35 le persone positive al Covid. Sulla provinciale orcianense invece domani al via gli interventi, saranno realizzati marciapiede e un tratto di percorso pedonale. Di taglio basso sempre sulla pagina della Valle del Cesano, sempre se il touch mi viene in aiuto e non fa le bizze. Eccolo qua, ha avuto un momento di defiance, vede un giovane accasciato in auto e lancia l'allarme, una donna salva la vita ad un 36enne, ora ricoverato in ospedale. Una persona che ha accusato un malore all'interno della propria automobile, una donna ha chiamato i soccorsi. Ieri pomeriggio è successo quando appunto intorno a 17.30, in San Italia del 118, una pattuglia della polizia locale, si sono mossi verso via Fosse Ardeatine. Il giovane è stato identificato a 37 anni, residente a Mondolfo di nazionalità italiana. Vallefoglia, anche qui dal Carlino, senza galleria al chiuso, attività stiano aperte nei fini settimana. Poi addio a Renzo Golini, aveva sorrisi per tutti, 72 anni. Oggi alle 15 Don Ugo celebrerà l'esequie nella parrocchia di San Michele. È stato portato via da un tumore rapace che non gli ha lasciato scampo. Poi la notizia invece che arriva da Pesaro, la polizia ha fermato a sole 24 ore dall'aggressione due ventenni pesaresi che sono stati arrestati, avevano rapinato un anziano in Viale Trieste. Uno dei due ha provato a giustificarsi, dice io avevo fame, riconosciuti perché avevano i capelli colorati. La scomparsa invece di Emilio Brusa, per mezzo secolo nello studio Zaccarelli, ha lottato come un leone contro il cancro, ma si è dovuto rendere, ha dovuto soccombere al Covid. Poi la pagina invece di chi è ancora su questa terra e lo è da 100 anni. Siamo a terre roveresche, oggi compie 100 anni e come ogni mattina, tranne la domenica, quando gli piace prendersela un po' più comoda, indossare giacca e cravatta. Elpidio Calcagnini, che è nato il 10 novembre del 1920 a San Giorgio di Pesero, con una storia alle spalle, tra Seconda Guerra Mondiale al fronte, deportazione nel lager nazista, cinque anni da primo cittadino di Piagge, e poi un quarantennio vessuto in Belgio, seguito dal ritorno della sua terra d'origine, che per raccontarla servirebbe un maxivolume. Questa è la storia di questo centenario che appunto nel 1956 è partito per il Belgio, c'è rimasto per 40 anni, lì ho fatto il minatore, racconta, poi è tornato, ha fatto il sindaco, ha fatto un po' di cose insomma, e adesso festeggia appunto i suoi 100 anni di vita. Nel lager saper usare chiodi e martello mi ha concesso di sopravvivere. E poi, sempre da terre roveresche, piscina fruibile tutte le stagioni, gara d'appalto al via per coprirla, il primo cittadino dice sarà realizzata una struttura telescopica e retrattile. Poi, la pagina di Fano ancora dal Corriere Adriatico, nuove cartelli per la zona blu, ora occorrono più controlli. L'impegno dell'assessore Brunori per il rispetto dell'ordinanza contro i mezzi inquinanti. Il divieto di circolazione in tutta la città, a Rosciano e a Fosso Signore, tuteliamo la salute. Rette dei centri disabili pagate per metà dall'ambito, i sindaci hanno concordato di proseguire il sostegno fino alla fine dell'anno. L'altra pagina di Fano del Corriere, il ritorno dei grandi da tutta Italia per la candidatura di Fano. su Zoom si incontrano le eccellenze per promuovere la candidatura del 2022 a Capitale Italiana della Cultura. Mentre Fucili, nella top ten delle vendite online di Amazon, il cantautore fanese con l'ultimo album arriva al terzo posto. Da Nova Feltria, malefici e fatture, cartomante nei guai, denuncia per estorsione via messenger. La donna, rintracciata dai militari di Nova Feltria, accusata di aver preteso ripetutamente soldi da una 55enne. Aveva ottenuto 100 euro tramite una carta prepagata. E poi dalla pagina di Senigallia del Corriere, basta con i bidoni davanti alle vetrine, in centro scatta l'operazione Decoro. Orari diversi per non passeggiare tra i raccoglitori. Il sindaco dice sto valutando le deleghe per i dehors. E poi infermiera dalla residenza a Torrette, vi prego non lasciate soli quei nonni, la scelta sofferta di Giulia Scanzani, l'appello social, aiutatemi ad aiutare i miei vecchietti. E poi c'è un morto nel parco, ma è un crociard che dormiva sempre a Senigallia, in via del Molinello. Arrivano i carabinieri 118, ma l'uomo rifiuta i soccorsi per ben due volte. Andiamo sulla pagina di Fano invece del Carlino, perché questa mattina si parla dell'area del Codma. Dalla frutta all'emergenza, il Codma cambia. Nato come centro ortofrutticolo, sta diventando il fulcro dell'attività della protezione civile, riqualificati i locali con aule didattiche e non solo. Gli spazi potrebbero diventare la sede del centro operativo comunale e a rafforzare identità c'è anche la presenza della Croce Rossa italiana e della futura sede dei Vigili del Fuoco. Mentre sul botte risposta tra l'imprenditore, il ristoratore Carriera e Luca Rodolfo Paolini, di cui vi abbiamo accenato qualcosa anche ieri, sempre attraverso i giornali, Carriera risponde a Paolini dicendo ignori la Costituzione. Sempre da Senigallia, aperitivo, Fola nonostante l'emergenza, queste sono le fotografie scattate e ripubblicate sul Carlino, il centro di Senigallia affollato con bar e pizzerie piene, facciamo fatica a mandare via, dicono i gestori, la gente quando scatta il coprifuoco, però rischiamo delle multe, le autorità chiedono di uscire solo per necessità, pochi però lo rispettano. Mentre sulle pagine sportive, dei giornali sempre di questa mattina, il Fano corre ai ripari, preso il difensore Brero, tesserato il giocatore che si stava allenando da dieci giorni con i Granata, ex Monza e per Golettese, la sua prestanza fisica ha convinto anche il tecnico. Sul fronte della Vispesaro invece i tifosi sono molto arrabbiati con la società, critici verso chi l'ha costruita, c'è chi parla di squadra fatta senza logica, chi di vuoto a centrocampo e chi chiede le dimissioni di Borzan e Crespini. Quanti errori dicono insomma in sostanza i tifosi. Domani intanto al Benelli a 18.30 arriva il Cesena del capo cannoniere Bortolussi e sabato invece si va a San Benedetto. Mentre il DS Crespini dice presto, per fare i processi servono pazienza e sostegno. E con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa. La rassegna torna domani mattina come sempre alle 7.00. Stasera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Grazie per averci seguito. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.